Filippo toccò Syrenx de Debussy e normalmente seria io che devia chiedere, ma è gusto perché Elo è francese, ha fatto un trabato e ringrazio moltissimo anche Filippo per la sua direzione, la sua amicizia. Quindi spero di non toccare nessun errore, ma provo a toccare l'Allemanda di Bach, che è un tocco di 1900, non so. La sua amicizia 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 La sua amici La sua amicizia La sua amicizia